Un'estate davvero fortunata per lo stallazzo di Paderno d'Adda, un luogo di ritrovo che è diventato un punto davvero molto frequentato per chi percorre la ciclabile lungo il fiume da Lecco a Milano. Abbiamo avuto veramente un'estate fortunata perché è stata un'estate con poca pioggia, magari questa è una circostanza negativa per la natura, ma per noi è andata bene perché la gente ha potuto godere della situazione favorevole e noi abbiamo potuto far veicolare bene i nostri messaggi, quindi non solo ristoro ma anche iniziative culturali e turistiche. In questi giorni ospitiamo la mostra del fotografo Giovanni Gargantini che è un uomo straordinario non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, molto meticoloso, molto attento alle fotografie e un amante dell'Adda e degli animali. Abbiamo avuto una visita di rappresentanti politici ed amministratori di stati della comunità europea e assieme a loro abbiamo presentato un'iniziativa importante mirata alla raccolta di firme a sostegno di una delibera che è adottato dall'ente Parco Adanord per la riqualificazione del naviglio di Paderno. A noi sembra questa iniziativa molto molto importante perché vuol dire mettere in ordine il naviglio, quindi restituire alla vecchia gloria, non certo per obiettivi di navegabilità, per commercio e trasporto di merci, ma anche solo direi per motivi turistici e per rendere l'ambiente più attraente e accattivante. Lei è il curatore di questa mostra dedicata alla ponte di Paderno, innanzitutto perché è una retrospettiva su questo importante manufatto? Per due motivi, il primo è che sono 130 anni da quando hanno iniziato i lavori, perché questo ponte è un'opera architettonica industriale di fine Ottocento, particolarmente importante sotto tanti punti di vista. L'altro fatto era che anche parecchia gente del posto, quando gli si chiede di questo ponte, si ricorda una sola cosa, si ricorda che il progettista, l'ingegnere svizzero Giulio Rotrisberger, si è buttato dal ponte perché aveva paura che crollasse durante le prove di collaudo, cosa assolutamente inesatta. Al 30 settembre, nel primo pomeriggio, avremo una sfilata di moda con abiti realizzati, confezionati da donne in difficoltà, donne povere, donne che hanno subito violenza, che hanno subito difficoltà, eccetera, eccetera. E questa sarà anche la prima dei vari iniziativi dedicate al femminile per promuovere la cultura del rispetto della donna e dei diritti fondamentali del mondo femminile. Grazie.